lo schermo del portatile so so e quindi non riesco a leggere niente ok forse ce l'ho fatta bene ma Riccardo ma di sorpresa ci giungi comunque buonasera a tutti buonasera buonasera ci proviamo ci proviamo ma di nuovo no 50 kilobit cosa eh vabbè però non so cosa sia successo nella mia vita vabbè proviamo e lei un grigis eeeh devo aspettarmi il tuo invito aspetta io faccio start the game ok ok invite a friend devo fare create room no non basta fare invite a friend ah si invite a friend buonasera a tutti buonasera buonasera e bentrovati cari amici come state cari amici cari e Mattia mi ha inviato 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 un invio io sono io faccio il librario credo play from start si ready 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 il gioco sono un attimo un attimo ti sento doppio però eh si perché c'è anche la chat del ghost però ma non l'ho disattivata io no no anche io l'ho disattivata waiting for other players eccoci quindi io ti devo leggere le cose devo fare la voce fuoricampo narrante non lo so devo cercare di capire se funziona la devo leggere in inglese la voce narrante riccardo stai dicendo che sono grasso ciao katia attenzione orme più che altro ditemi se se va così così se ne queste impronte così subito uomini in lontananza sono uomini incredibilmente imbacuccati e uno allunga una mano però non ha la faccia rimasti indietro abbandonati per sé eh razzo di segnalazione una chiesa in lontananza con un rosone e dalla forma curiosa gli avventurieri si incamminano ed entrano nella chiesa oh che bella chiesa disse tipo ah ma son passamontagna non è che non hanno la faccia in ginocchio che pregano no sono morti uccisi da delle gambe we were here you have no power scusate dovevo rovinare il momento che male bene e quindi ci siamo allora posso camminare guardare dei simboli su una parete molto meglio con la tastiera però perché con la la stile di prezzo tra essere in ginocchio a pregare ed essere morti allora io qua sono da solo io anche c'è il simbolo degli illuminati c'è un libro no c'è una porta e posso saltare posso anche accucciarmi che non ci vedo posso anche accucciarmi salti con le punte però ah c'è la radio io ho preso non ho preso la radio ho preso la radio ah in teoria se ti faccio così tu dovresti sentirmi prova prova non sto ma perché io ho tolto mi sa che ho tolto la voice chat sento anche tutto il rumore di stati ok quindi io sono qua nella stanza che ti devo guidare alla ricerca qui c'è una radio ho una radio clicco ma la radio non fa nulla buonasera black buonasera mattina eh no devi perché devi premere v per parlarci però in teoria noi ci sentiamo già quindi ok c'è un libro c'è scritto la risposta mente sul muro ah io c'ho sul muro c'ho il simbolo degli illuminati ok a parte che è altissima la sensibilità del mouse è qualcosa di voglia ah la porta non si apre io alzerei un po' la luminosità del mio schermo perché è un po' bassa allora candele come dire loro vedono qualcosa cioè si vede bene ah ci sono degli occhi vedi uno verde e simboli ah aspetta no occhi ce li ho occhi ce li ho c'è gli occhi aspetta che devo alzare la luminosità come cazzo si fa qua avanzate luminosità no è già altissima la luminosità è figlio mio sì noi siamo sul discord ma dall'altra parte lasciamo tutto così e mi farò simboli tocco simboli simboli allora che occhi cosa vedi cosa vedono i tuoi occhi da elfo allora c'è in alto no non è tipo minecraft è tipo un puzzle game allora ho in alto una riga con tre simboli sì il primo a sinistra è degli degli spaghetti no volevo dire come posso dire no vedi vedi anche degli occhi uno rosso e uno verde allora uno rosso e uno verde da da sinistra verso destra vedi prima il rosso e poi il verde aspetta ma non vedo è tutto una persona di colore non mi fa vedere dice che è tutto nero ah ma gli altri vedono eh sì infatti volevo sapere se è stronzo voi vedete uno scarabocchio che è stronzo allora ho due due occhi che non posso cliccare sono in alto delle colonne ah ok va bene no ma Mattia è un po' strumento però Mattia signor scarabocchio non Mattia Mattia allora da sinistra verso destra i simboli prima il rosso e poi il verde di occhi sì esatto su due colonne prima il rosso e poi il verde allora i simboli corrispondenti sono tipo il tridente o l'artiglio visto che vai verso l'alto oh ok e poi le tre stanghette col cerchio le tre stanghette col cerchio ah ok tipo la tenda tipo la tenda però se clicco col mouse non accade nulla prova con la E ok giusto E aspetta intanto vedo se riesco ad alzare da qua la luminosità non è successo un culo allora perché qua se no è la fine no ho sbagliato tutto graphic options ok back return to game non è successo strano non vedendo quello che fai tu non allora ti descrivo la situazione due occhi rosso verde ci sei io qua ho la tabella degli occhi ok però mi hai detto che i simboli sono si il tridente quello che ha i baffi insomma i baffi con la stanghetta ok e e le tre linee col cerchio ah ok tre linee col cerchio quindi questo si ok e achievement sbloccato attenzione ok 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 seconda stanza dannazione seconda stanza dimmi ci sono c'è una bacheca c'è un quadro che è orrendo allora io qua ho una stanza piena di quadri è un gabbiano con un teschio e ha i capelli di silvio berlusconi palesemente un gabbiano con un teschio voci inquietanti voci inquietanti ora mi cacco allora ti descrivo ho una bacheca con dei simboli si ok quindi ma non è allora se è quello vabbè vai dimmi no lascia perdere il mio giudizio sul gabbiano e il teschio allora ho una bacheca con dei simboli ce ne sono tanti c'è milioni di milioni ma quello di negroni vuol dire qualità in alto a sinistra eh c'è una faccia che urla o una casetta vedila un po' come vuoi eh ah sì ok poi ho una rosa allora ho capito descrivimi meglio il quadro il quadro è un gabbiano ha i capelli del mio prof di analisi è un gabbiano ma ha le zampe lunghe sì e ha un teschio e non ha anche un guscio a coccinella in che punto però il guscio a coccinella sulla schiena no ok allora i simboli corrispondenti dovrebbero essere l'uomo con le mani in faccia non ho uomini con le mani in faccia quello che sembra tipo un calice ah ok con le palle ok e dove lo devo mettere? all'inizio a sinistra? all'inizio il primo ok nasi allora il secondo è il tondino con la croce che finisce nella j con coso strano c'è un pallino tipo croce celtica ok sì che finisce con un uncino tipo ok trovato con la n ok e l'ultimo dovrebbe essere la tartaruga impalata no dove è andato? aspetta che me l'ha me l'ha buttato per terra aspetta ok e l'ultimo mi hai detto è la tartaruga la tartaruga impalata ah quindi con tanto di testa perché ce n'è una simile ma senza testa ok sì quella che vedo io ha la testa ok perfetto perfetto grandi madonna io poi voglio guardarmela in pasta e vedere quello che tu vedi eh sì oddio io ho aperto un libro cosa devo farci aspetta aspetta allora io sono in una sembra tubature vado giù vado giù acqua aspetta aspetta ah ok ho visto acqua 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 che sale acqua che sale sta salendo dell'acqua Filippo no acqua che sale aspetta c'è scritto c'è scritto green sulla porta verde non lo so Filippo muoio io sto scendendo una scala e sto scendendo una scala ah ok green sta salendo Filippo sta salendo Filippo muoio c'era scritto green io ho girato la valvola verde la giro ancora no l'ho chiusa l'ho aperta cos'altro che io ho tre valvole qua io ho l'acqua che sale green no una blu una rossa e una verde gialla quella verde era chiusa l'ho aperta e continua a salire si e la rimanovro e l'ho chiusa adesso no l'ho aperta adesso e niente la vado a tutte le valvole niente io muoio adesso le ho aperte tutte e tre e io sto morendo dimmi qualcosa di più per la morte non ho niente non ho niente in questa stanza dei tubi rossi ho dei tubi rossi ma ah tubi rossi posto no continua a salire allora io ho tre valvole una blu una rossa e una verde cerca di aiutarmi ad aiutarti c'è scritto verde sulla porta e ci sono dei tubi rossi ma stanto sto morendo ah no non so bene come tu abbia fatto perché sono un genio ok quindi adesso immagino bisogna tornare alla superficie ok eccoci qua superficie ah che bello io non ho niente ah ah si apre così la porta aspetta c'è un cancello una leva una leva ah bene sei buono con le leve che come così se tiro sulla leva si apre un cancello ma si chiude subito quello dopo ah eh si tira una leva e si apre un portone però io non so come ho un muro davanti che dice bring down the guiding light bring down the guiding light ok a posto sono passato ora ho due vie destra o sinistra con una bussola con una rosa dei venti che punta al rosso al nord credo pronto ehi dimmi devi darmi qualche aiuto in più ok allora vado non so niente per ora vado a destra vedo cosa c'è allora a destra ho delle altre strade ma ho un quadro con un cane e delle candele questo non mi aiuta per niente ok allora vado a sinistra cioè no rimango scusami sulla destra e proseguo a destra vado in una stanza chiusa con una leva blu questo continua a non aiutarmi perché non mi si è aperta nessun'altra porta tiro la leva tiro la leva guarda cosa succede ok in questa stanza non è cambiato niente nelle altre stanze no sembra ancora niente ora proseguo vado avanti si sale si sale di qua cancia ho visto qualcuno io come hai visto qualcuno sei passato ti sei mosso beh si immaginati si torna indietro da dov'eri mi cacco mi sto cacando sono tornati dietro niente ma io sono in un posto chiuso non credo che possa ho visto ho visto qualcuno Filippo mi cacco mi spiace mi cacco allora allora andiamo dall'altra parte io qua ho un film allora qui a sinistra cosa c'è world greatest dress no chess moves ah quindi ok tra un po' mi sa che dovrei giocare a scacchi c'è qualcosa lì che è Filippo mi sto cagando eh immagino mi cagherei anch'io io te lo dico vedo della roba strana eh non so aiutami ad aiutarmi credevo intendessi Claudio si Claudio giusto però qua continua a esserci cancelli aperti eh io in questo momento non ho niente con cui aiutarti c'è una leva un cancello rosso però non me la fa ho tirato una leva non mi è cambiato nulla ho tirato una leva bianca ed è partita della musica no io da ma è qua ci sono già state ah no aspetta ok allora a parte che se urli mi cago addosso te lo dico scusa scusa avete la complicità di due amanti allora allora fermi fermi tutti fermi tutti ehm cosa vedi adesso davanti a te allora aspetta sono davanti alla porta rossa e non c'è niente davanti alla porta rossa non c'è niente è chiusa si ok guardando la porta rossa ok eeeh vai a sinistra ok fino a una porta blu che dovrebbe essere aperta no dovrebbe essere chiusa aspetta ok no è aperta la porta blu è aperta la porta blu è aperta andando a sinistra si allora vai torna indietro dalla porta rossa no vai avanti attraversa la porta blu ok vai sempre dritto sempre dritto aspetta a un certo punto ho un quadro con un cane il quadro non lo posso vedere ok devi andare oltre la porta bianca c'è una porta bianca aspetta aspetta io ho passato la porta blu sono andato a destra vai dritto ora ho un bivio vado dritto devi andare leggermente a destra poi devi tornare a girare di nuovo a sinistra ah a sinistra di nuovo si ok poi prendi l'unica strada che c'è che dovrebbe essere a sinistra no l'ho perso dovrebbe essere a sinistra si ok e poi non la prima ma la seconda a sinistra e dovresti avere la leva blu aspetta che io intanto devo ritirare la leva esatto esatto e l'avevo tirata aspetta però io qua sono tornato all'inizio ora vado dritto non la prima a destra no io ce l'ho a destra la leva allora adesso dovresti avere aspetta la leva blu è a destra ho sbagliato eh immaginavo allora ritira la leva blu un secondo aspetta sono dalla rosa dei dei dalla rosa dei venti ok si vado a destra e poi di nuovo a destra c'è la leva blu tira di nuovo la leva blu ok la tiro su e torna indietro alla porta verde ho sentito della roba è un casino tornare indietro alla porta verde com'è un casino non è un casino allora di qui poi ero andato di qui poi ero andato a destra poi ero andato di nuovo a destra è chiusa la porta blu Filippo perché non hai ritirato la leva blu l'avevo già tirata era quella che me l'ha fatta aprire allora allora devi torna dalla leva blu però invece che entrare nella stanza della leva blu ok prosegui dritto ok quindi invece di andare a destra nella stanza della leva blu c'è un cane vado a sinistra quindi vai a sinistra si ok obbligatoria poi di nuovo a sinistra e salgo si poi a destra ok aperta la porta ok ora si ora di nuovo a destra allora sto pensando perché non so se sia a tempo l'apertura delle porte no però quella verde è chiusa adesso ho la porta verde a destra chiusa la verde è giusto che sia chiusa devi trovare il modo però di far riaprire la porta blu di prima perché ho fatto una cazzata ottimo ottimo quindi torno indietro allora perché facendoti fare il giro da lì poi non puoi andare all'obiettivo facendoti tirare la leva verde da lì non puoi tornare poi indietro non so dove è la leva verde quindi va bene la leva verde è vicino alla porta verde alla porta verde è quella che è aperta ah che ok quindi questa è chiusa quindi non c'è la leva verde benissimo allora da lì puoi arrivare alla leva verde però da lì ti trovi la porta blu chiusa ok quindi torno indietro torno indietro e prova a riazionare la leva blu e guarda se la porta si apre allora torno indietro di qua questa porta blu è aperta però eh adesso ho passato una porta blu aperta ok ora sto tornando indietro di qua e poi la leva blu è di qua ok quindi la tiro su e torno dove però e torna all'altra porta blu quindi dall'altra parte dall'altra parte quindi devo andare a sinistra sono di nuovo dalla rosa sono di nuovo dalla rosa dei venti la passo io ce l'ho in un posto totalmente diverso a destra poi ancora a destra e dovresti essere dall'altra porta blu sinistra porta blu aperta esatto porta blu aperta ok tira la leva verde che dovresti dovrebbe essere in quella stanza lì eccola la leva verde ok tira la porta verde di fronte a te dovrebbe essersi chiusa non vedo nessuna porta verde di fronte a me però è nel corridoio quello che esce da quella stanza lì si si è chiusa ok si è chiusa ok torna alla leva blu ok quanto mi sarei perso all'inizio sto tornando eh si si dovrebbe essere di qua ok sono alla rosa dei venti di nuovo devo tornare dalla leva blu si quindi la rosa dei venti immagino che sia dalla porta bianca si esatto bravissima sono dalla leva blu cosa faccio tirala ok e torna dall'altra porta blu quindi non questa qua più vicino ma di nuovo dall'altro giro non quella che hai appena passato ma l'altra ah quindi devo proseguire quindi devo proseguire quindi devi proseguire a destra ok ora a sinistra ora a destra si è aperta la porta blu si è aperta la porta blu fai la curva a destra e adesso la porta verde dovrebbe essersi aperta che mi ricordo era dove esatto esatto ok dentro c'è una leva rossa si aziona la leva rossa ok azionata ok adesso devi tornare alla leva blu e azionare la leva blu porca mignotta quindi che giro del cazzo devo fare quindi devi andare a sinistra ok ho passato la porta verde che avevo aperto quindi ok vai a sinistra a sinistra si ok torno giù dovrei dovrei passare la porta blu che non è più colorata ok blu si ok ok e torna alla leva blu ok quindi passati qua della serie cronk tira la leva l'altra leva ok sono dalla leva blu ok tira la leva blu ok ci sono e poi adesso ritorna dalla leva verde che era dall'altra parte che era dall'altra parte ok io mi guardo cosa cazzo stai guardando tu perché è incredibile questa cosa allora quindi qua c'è il cane era a destra la leva mi sembra è apparita la mappa dai non si è reattiva la leva è la fine ah no ok ok era a destra eccola qua la leva verde dimmi tira la leva verde ok si è aperta la porta verde eh non lo so aspetta che devo controllare perché non mi ricordo dove cazzo era la porta verde no questa porta quella che c'è di fianco si si è aperta ok passaci attraverso e prendi la porta rossa alla tua sinistra porta rossa alla eccola ok ce l'abbiamo fatta si checkpoint oh yeah che fatica ok no io poi voglio vedere che cazzo di giro hai fatto ok si gioca a scacchi allora aspetta allora devo mettere il video allora metto la bobina non l'ha messa non l'ha messa allora c'è una macchina con una con una leva aspetta io devo capire come funziona questo questo dispositivo ok c'è un indicatore c'è una scacchiera tanto io guardo cosa c'è in giro questo era il tutorial ok no ma comunque io vi vi ripeto è free to play sto gioco eh e cosa cosa devo fare gioco cosa devo fare oh non muovere cose è che io mi spavento non mi fa attivare aspetta aspetta io qua ho una macchina da attivare aspetta un indicatore io qua ok sto dando della ok ho dato della corrente ok quindi adesso dovrebbe attivarsi il proiettore ok sto dando della corrente guarda un po' ok 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 vediamo un po' le mosse ah fa un freddo porco qui oh allora tu allora il bianco muove il pedone però non lo vedo che casino ma quanto veloce no aspetta ferma un attimo me lo so perso ah tu chi sei i bianchi o i neri ma io sto sto morendo di freddo però muovo i bianchi tu muovi i bianchi si allora ok cerchiamo di fare una mossa per volta mi metto qua nell'angolino mentre lui guarda così che se no muoio di freddo che sei scemo appena mi fa non me lo fa riattivare però il proiettore pronto basta aspetta abbiamo spiegato la nostra unica opportunità qui io ho già dato corrente ho già dato tutto ok allora pedone in e4 quale pedone il pedone che è in e2 in e4 come si la è quella più sinistra giusto a b c d e quindi è quello della regina quello della regina qua è già è già andato avantissimo ok va avanti poi devi muovere l'alfiere a destra della regina e me lo sono perso però dove ah è lo scacco del barbiere cazzo questo eh credo di si allora il nero dove muove il nero muove il pedone di fronte a te ok quindi fa la stessa mossa mia credo di si mi sembra di si ok muove quello esattamente di fronte a te ok io devo muovere l'alfiere qua quindi aspetta te lo dico subito non ci sto vedendo devi muovere l'alfiere di fianco alla regina a destra della regina ok devi muoverlo in c 4 impossibile c di como ok como 4 ok ah no quello che dici tu è il re non è la regina quello che abbiamo da scemi confuso con la regina era il re vabbè quello più alto quello più basso è il re va bene uguale uguale ok quindi poi il nero dove muove il nero muove il pedone del cavallo sto morendo filippo in b in b 6 impossibile ah si ok perché viene in avanti quindi da 8 arriva no è sbagliato è sbagliato è sbagliato ma come è sbagliato non può essere sbagliato ti giuro perché era l'altro cavallo ok quindi poi devo prendere l'alfiere muoverlo in c quindi qui no 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 aspetta si 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 ah ricomincia no non stai buono con quell'alfiere si ma io non vedo più niente Filippo Come non vedi più niente? Ho la vista annebbiata C'è della neve E allora riscaldati, aspetta Non ho idea di come si ci riscaldi Allora, riesci a ricominciare da capo? Con tutta sta nebbia? Sembra di stare a Milano E non so come aiutarti Aspetta eh, che guardo se riesco a scaldarmi in qualche modo Ma non sembra Quale torce Allora, vabbè dimmi Allora Quindi abbiamo appurato che quello che pensavamo essere la regina In realtà era il re Cerca di riportare tutto da capo Eh, tutto da capo Dimmi Ok, allora Scusami, il re in che lettera sta? A, B, C, D, E Giusto? Sì Allora, il re sta nel tuo colore Quindi quello che è nel bianco è il re Allora, ok, è l'altro Eh, avevo immaginato È quello più alto, il re Devi muovere il pedone che ci sta davanti di due caselle avanti Ok Benissimo Il nero cosa fa? Il nero muove davanti Perché devi muovere anche il nero? Sì, speculare Sì, speculare Ok Poi adesso non me lo ricordo a memoria Devo attivare il proiettore Poi L'alfiere è vicino a No, ho sbagliato Vabbè, non sto muovendo niente, dimmi Ho sbagliato Allora Il pedone Deve muoversi in E4 L'ho mosso il pedone Quello davanti al re Ok Poi l'alfiere che sta in F1 Deve muoversi Aspetta È a sinistra del re l'alfiere No, è a destra Sono morto Ho perso Eh sì Che casino Ah, ok, sì Sono davanti Dovrei fare la scacchiera Eccola qua Allora Abbiamo detto che Il pedone davanti al re Si muove Davanti È davanti a quello nero A quello che è sul nero Ah, ok Quindi alla regina Quello in E1 Ah, no, è il re quello lì Ok Ah, devo rifare Aspetta che devo rifare il proiettore Si Io quasi quasi me le scrivo Allora Vediamo se c'è Dei fogli di carta Questo cos'è? No, questo è importante Non posso scrivacchiarci sopra Il coso delle pizza è importante Non posso scrivacchiarci sopra Questo posso scrivacchiarci sopra Allora Ok, quello che sta sul nero Il bianco che sta sul nero Lo porto avanti Allora, aspetta eh Dove cacchio è una matita? Matita Matita E lui fa lo stesso Ok Poi dimmi la prossima mossa Poi dovresti portare l'alfiere davanti al cavallo Ok L'alfiere è quello che sta in F1 No, non me lo fa portare l'alfiere Aspetta eh Aspetta Ho attivato il proiettore Allora E1 E4 Poi Poi Il nero fa speculare L'alfiere F1 F4 Poi B1 1 Poi Oh, la regina Si muove Ah, ok, arriva qua, arriva L'alfiere Ok Che casino Quindi l'alfiere arriva in F No, in B Ho fatto casino No, vai, l'alfiere l'ho spostato Ok Poi devi Allora Dei neri Dei neri, dimmi Il nero muove Il pedone Della colonna B Quindi No, aspetta Della colonna B Quello davanti al cavallo Quello più vicino all'alfiere, insomma Però, ok Sì, dimmi Sì Lo muove avanti di 1 No, aspetta Ho sbagliato Ok Poi Sì Il bianco Muove La regina Nella colonna In diagonale Sì Fino ad occupare Il primo posto disponibile Nella colonna Della alfiere che hai mosso Ok L'ultimo in fondo, quindi No Ok Non è qui No, no Della colonna Della alfiere che hai mosso Ok Ho sbagliato Io avevo capito un'altra cosa Non Non metterò al posto Della alfiere Ho capito Ho capito Allora Aspetta che devo rimuoverli Però Ok Pedone Pedone Poi l'alfiere Qui Lo devo mettere Qui Poi Il pedone Del cavallo Di uno In avanti Ok E la regina Invece Deve andare a occupare La colonna Dell'alfiere Ok Si si muove in diagonale Sui bianchi Ok 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 Poi Adesso devo riguardarlo Perché non me lo ricordo più Dai Che c'ho freddo io qua Eh lo so Ma Questo è C'ho una memoria di merda Allora Poi Mossa del nero Ok Il pedone che va avanti L'alfiere No L'altro pedone che va avanti L'alfiere Che si muove davanti All'altro alfiere Il pedone che va di uno avanti La regina Che si sposta lì davanti All'alfiere Il cavallo Che si muove Quale Quale cavallo però Aspetta eh Eh sto morendo Ok Allora Il cavallo Si muove Nella casella Il cavallo Quello dietro al pedone Che hai mosso Ah ok Si muove Nella colonna Nella Nella casella bianca Alla sua sinistra Quindi Si In verso il centro Della scacchiera Verso il centro Ok E poi La regina Va avanti La regina bianca La regina bianca Va avanti Fino a mangiare Il pedone Che ha davanti Yes 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 Che fatica Allora Leggiamo un po' La chat Perché la stiamo Un po' Trascurando Ma siete che vado Vado al caldo Siete che vado al caldo Un gioco facile Che non comporti Accoltellamenti Però io non posso andare dalla porta È possibile Ah no Si è aperta l'altra Ok Veloce Però non so dove devo andare Ok Checkpoint Ok Aiuto Io spero che per gli altri sia godibile Allora Un foglio Un libro Delle Delle Degli spunzoni Davanti a me Degli spunzoni E la casa E la casa Bravissimo Ok Ho questo libro davanti Ma non Ah no Devo leggere dietro Però non ci leggo Immagino ci siano delle caselle Da premere Starting The far west Che ansia Allora Devi partire Da Da più A ovest E ovest cos'è? Qualunque cosa voglia dire La sinistra Ok Sì Devi fare Due passi A nord Ok Due passi A destra Ok Poi Guardando A nord Sì Che cazzo c'è scritto? Ti immagino Tutto con gli occhi piccoli Che stai cercando di leggere Sto facendo molto ridere Dice Poi guardando a nord Due È una parola che non riesco a leggere No Non capisco E mi rimangono praticamente tre caselle Dalla porta Dritte Però muoio sicuro Prova a fare due passi in avanti Ok 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 One Can head for the door After taking one step Ok vuol dire che sono a un È vero sono a un passo Dalla porta però Attraverso Il Il muro ad ovest Un passo Sì Ok E poi credo che tu possa andare dalla porta No Mi manca una casella Eh credo che tu possa andarci Ok 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 Che fatica Eh sì cazzo Allora Sono entrati in una stanza Ho dei vestiti Attacca panni Sia a destra Siamo fatti mangiare dalla regina Perché è arrivato Non io Non Ermione Tu Allora Eh dimmi Ho dei vestiti sia a sinistra che a destra Dei vestiti Sì degli stellini Ah mi si è aperto una porta Aspetta Quanto lenta Anche perché mi hanno scritto Ok No però così copro tutto Ok Allora Allora Eh qua sta partendo Della Della recita Sì Ok benvenuti allo show Allora io vabbè Ho le comparse dietro Tre omini A sinistra E tre Ah no è uno scenario a destra Quindi ho il castello Che è la H E la corona del re Il castello che è la H Sì è fatto ad H È un castello con due torce Eh ma io qua c'ho solo il palco Ok aspetta Ho rispettivamente Sei leve E due leve Una che dice scena uno E uno che dice Blood light Cioè luce Di sangue Ehm Non so come aiutarti Oh non vedi niente? Io vedo solo il palcoscenico E le sedie Ok posso muovere le leve Le leve E cosa succede Se muovi le leve Niente Ah no aspetta Ho visto qualcosa spuntare Ok Sto cercando di clippare il gioco E salire sul palco Guarda un po' Io sto muovendo Era solo un inganno Sto muovendo della roba Ah no vedo uno che compare Ok uno rosso Ancora Uno vestito di rosso Che adesso è nel centro del palco Da ubriachi sarebbe stupendo Sì è vero E poi posso muovere anche altra roba Però non so Hai qualche indizio sulla scena Come deve essere? No In giro guardati un po' Se vedi qualcosa Sento rumore di ingranaggi Eh sì perché io in realtà li sto muovendo Ah aspetta aspetta Posso salire sul palco Ah ecco vedi Io re è sparito il mio re Perché è qua? Dovrebbe essere da te Perfetto Ok Però non ho altri indizi Premo scena 1? Eh? Aspetta Eh Non ho fatto niente eh? Il castello pieno di vita Quindi il castello Ah E qual è il castello? Aspetta Lo so Dovrebbe essere questo qui Lo vedi arrivare? No vedo il re Questo è il re eh? Quindi torni indietro Sì Dimmi quando è fuori dal palco eh È fuori Ok Questo? Che cos'è? Vedi arrivare qualcosa? È una porta Questa è una porta È il castello Sicuro? Eh sì Non c'è nient'altro che possa No perché ci sono dei tipi Però non sta andando avanti la descrizione Aspetta Forse devo Devo premere qui Guarda poi anche i tipi Ha fatto un suono terribile Sì ho tirato Oddio si sta avvicinando alla morte Sono morto Oddio Oddio Ok Non so cosa tu abbia Vissuto Ho visto una Una cosa terribile Era un incubo Che paura Aspetta Devo rifare Cazzo Devo rifare quello Dei Dei passi Allora erano due No sono morto Bravo Mi sa che è cambiata la storia Phil Eh non Aspetta sto cercando di Mettere il libro No è la stessa No è la stessa Partendo dal più ovest Aspetta ho cambiato i simboli Sono cambiati i simboli Ah Allora sì Allora c'è un gatto contento Un pene Ciao C'è un gatto contento Un pene Non è questo Poi c'è un disco volante Con un uncino Un candelabro E un omino su una barca Un gatto contento Ah ok Un gatto contento No Sì Sì ok Ok è questo Aspetta che Quindi Gatto contento Pene Aspetta che non ci leggo un cacchius Allora Dall'angolo più ad ovest Ok Muoio Ma no dimmi Dall'angolo più a ovest Per tre volte Una mossa verso nord Ok Poi Poi Un passo a sud Ah torni indietro quindi Eh così c'è scritto Ok Ma aspetta Aspetta No mi sono mosso Tre passi a nord Uno a sud Eh no Torna dove eri Tre passi a nord Ok Ok Quindi devi fare un passo a sud Ma non prima Aver fatto due passi a est Ok No sono morto Possibile Ho salutato house di merda Allora Qua mi dice Aspetta 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 un attimo Aspetta un attimo Ok i disegni sono gli stessi No però è cambiato Aspetta I disegni sono Il gatto felice Eh Ce l'hai Poi c'è Un prepuzio con un Con un'asta Una collina Con un'asta No Poi c'è un alieno Si Un uomo felice E un uomo in barca E roba sulla barca Esatto Esatto Ma non è vero è quello che c'è scritto E dice Ok Partendo Dall'angolo Più a ovest E quindi a sinistra Ok A sinistra E poi dice One Moves north Thrice Ok Quindi devo farlo tre Uno Due Tre E ci sono Ok Poi dice Fai un passo a sud Ma non prima Non prima Ok Aver fatto Due passi a est Ma io son morto Se hai fatto due passi a est Uno Ah no No aspetta Due Si giusto giusto Ok Ah ok E poi un passo a sud Ok Minchia c'ho una caga Quando le faccio ste cose Poi dimmi E poi continua Fino al muro Ad est Ok Si Il scopo del gioco è suggerire male Si Ma legge dalla guida del telefono E poi Sempre dritto Fino alla fine Del Del tutto Ok 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 Fa un culo Ora siamo Ora siamo Di nuovo nella scenetta Ti ripeto la scenetta Si però io ho paura Ho paura della morte adesso Ti ripeto la scenetta Castello E re Ok 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 Poi ho dall'altra parte Ho Tre omini Si Una spada Si E una corona ma della regina Che è quella più tonda Non è quella a punta È quella un pochino un po' più tonda Ok Ok Allora Facciamo partire Che io qua c'ho la morte Che incombe Ok dimmi Quindi Castello e persone Castello e Castello e persone Ok però Non mi ricordo Allora il castello Era questa Dovrebbe arrivare il castello No Quello è il re Era quello Ah Aspetta Te lo porto indietro Aspetta Ok il re dovrebbe essere a casa Giusto è via dal palco Si Ok Dai che non c'è che arriva la morte E devo portare il cast Non mi giro più No è lì che paura Il castello Si e le persone Il castello c'è Le persone Sono anche le persone Sono queste No Non sono queste No quella era la regina Allora sono queste Aspetta No ho sbagliato di qua Arrivano le persone No sono andate via Le mandate via Arrivano aspetta Ora ci sono Si ci sono le persone Boom mollo Va bene così Ok E poi boom Non lo sento più Mi dice There one was Castle Life E magari devo fare Scena uno E fai scena uno Qua si sta avvicinando Però io ho paura Vado Vai Dimmi se sei morto Si sta avvicinando Madonna Che caga Sta a fare È cambiato qualcosa No Mi dice sempre La stessa storia Si sta avvicinando Si sta avvicinando Mattia io mi sto cagando A donna E cosa devo fare Bloodlight Prova a portarle più avanti Prova Bloodlight Vado No Cosa Portarle più avanti Le persone Non si può Si Si credo di si Erano queste Non mi ricordo Si Si vai ancora Ok Boom Vai Scena uno Scena uno No si è avvicinato Ancora di più E allora non so cosa fare No porta il castello Un po' più a destra No Dall'altra parte Ancora Ancora Boom Allora porta le persone Ancora un po' più a sinistra Ancora E non si sono mostro E allora è questo Porta fuori anche Il re e la regina Allora E la regina Si sta avvicinando Era questa la regina Sta arrivando No Sta arrivando la morte La regina era questa Era Ok Ok sta arrivando E? E il re Porta fuori anche il re Sta arrivando il re? No Allora lo giro di là Aspetta Ok Ancora? No C'è la morte Ora? Scena 1 C'è la morte Scena 1 E il castello Si sta avvicinando Mattia Io mi sto cagando Io non so cosa stai vedendo Io non sto capendo Cosa devo fare Boh Leggi cosa ti dicono Non There was There once was a castle Filled with life Ma secondo me c'è qualcosa Che ci sta sfuggendo È sicuro Non capisco Non lo so No c'è la morte sempre più vicina Io sono morto Cioè io ogni volta che sbaglio Si avvicina sempre di più Sì Ma tu non hai idea Dell'incubo che sta a fare qua Eh non lo so Prova a riportare tutto come era prima E accendere la No no Dall'altra parte Per l'amor di Dio È vicinissimo Che paura Io me l'ho segnata Alla notte Meno male Che cosa Cosa devo fare? Che paura E niente Sono morto Eh vabbè Allora ti uccido Faccio prima Accendi la blood light Eh dimmi Se sei morto Se sei morto Ricominciamo Non so Non capisco Cosa devo fare Perché qua Dietro la regina C'è una conchiglia Ah no C'è la corona Le tre persone Il re C'ha l'altra corona E la porta C'è il castello E manca Manca il cavaliere Manca E tira fuori anche il cavaliere Sta uscendo il cavaliere? No Adesso sì E quindi? E quindi non lo so No Mi ha dato errore Perché? E non lo so Ah no Questo è il re Che muore Niente Niente Mi sta venendo a prendere Non lo so Qua mi restituisce delle leve Mi fa rigirare le leve Non lo so Io non sto capendo Cosa vuole No porta fuori il cavaliere Riporta fuori il castello La regina è il re Non li puoi mettere più in centro? Ma aspetta però Mi sa che sei buggata adesso Eh muoio Muoio Va bene Vabbè facciamo che ci riproviamo domani Eh sì dai Va bene Grazie a tutti per essere stati insieme a noi Ragazzi io veramente Voi non avete idea dell'incubo che sto guardando io Non avete idea dell'incubo Non ne avete idea Comunque vi ringraziamo per averci tenuto compagnia questa sera Averci deriso Siamo stati tantissimi questa sera Io sono sudato che non è idea E stanno noto che avrò gli incubi L'hotel Muoio Muoio La morte Sì ma Veramente Vabbè ci riproviamo No domani sera Io non ci sono adesso Domani parto Eh vabbè Sì ci riproviamo quando torni Quando torno ci riproviamo Quindi Bam Ci rivediamo quando torno Grazie a tutti Ciao zio